Settima di ritorno della regular season in Serie B di Pallacanestro, l'Allianz Ansevero tre vittorie nelle ultime tre giornate è attesa domani da un secondo turno interno consecutivo. I gialloneri ospitano Rimini nono in classifica, i due punti e la vittoria, secondo pronostico non dovrebbero sfuggire al quintetto di Coach Cohen e del presidente Ciavarella, palla a due, ore 18. In Cisilver invece si disputa la tredicesima e terz'ultima della regular season, riflettori puntati a Manfredonia dove la TAM di Coach Ciociola affronta in un derby tutto da vedere ed importantissimo per la classifica e la zona playoff, una Diamond Foggia in grande spolvero, salto a due ore 19, gli impegni delle altre foggiane, La supercapolista Udas Cerignola dei record, 23 vittorie nelle ultime 23 gare giocate, va a Francavilla, fuori casa anche Viestan Martina, l'Olimpica Cerignola invece riceve Altamura.